Il gusto è dei curiosi, di chi scopre il mondo con il palato, di chi impara ogni giorno una parola nuova, da tutte le lingue del gusto, di chi cerca sempre qualcosa e non è sazio, finché non la prova. Mi chiamo Nina, sono una taste hunter, una cacciatrice del gusto. Cerco nuovi sapori per le più gusto, perché il gusto è dei curiosi. Prova la limited edition più gusto, paprika e mango. Grazie.